1972 Washington scoppia lo scandalo Watergate 1970 città del Messico Stadio Azteca Italia Germania Ovest 4 a 3 1974 primi omicidi delle Brigate Rosse due morti dell'MSI di Padova commenta il fatto del giorno Enzo D'Antona direttore di Il Piccolo parliamo di Antonio Canepa protagonista di una grande e complicata stagione italiana quella in cui dall'indipendentismo della Sicilia si passa all'autonomia